Musica Arrestati 5 scafissi per tortura e traffico di migranti erano sbarcati lo scorso 26 dicembre a Lampedusa. Fingono di vendere assicurazioni di auto e moto a prezzi vantaggiosi, pioggia di truffe, truffa anche l'Unione Europea, frode fiscale, beni e disponibilità finanziarie per oltre 7,2 milioni di euro sequestrati. Il Papa vuole in Congo ad accoglierlo tra gli altri anche un missionario di origini, l'Icatesi, appello della CEI, scegliete l'insegnamento della religione cattolica a scuola. Urani abbatte Agrigento dopo due overtime, la partita termina 126 a 121. Musica Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di immigrazione clandestina. Arrestati 5 scafisti per tortura e traffico migranti erano sbarcati in due approdi il 26 dicembre scorso a Lampedusa. Dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento in data 27 gennaio ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla DDA di Palermo adottato un'ordinanza cautelare che ha disposto la misura della custodia in carcere a carico di ben 5 indagati. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito lo scorso 24 gennaio dalla Polizia di Stato su delega della Procura Repubblica di Palermo nei confronti di 5 cittadini stranieri indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata nonché dei delitti di tortura e sequestro di persona. L'indagine è stata avviata dalla Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Palermo a seguito di due sbarchi avvenuti a Lampedusa lo scorso 26 dicembre. Nell'occasione, a seguito delle preliminari attività investigative svolte nell'isola di Lampedusa dal personale specializzato, sono state acquisite rilevanti informazioni in ordine a un traffico di esseri umani in prevalenza di origine bengalese provenienti dalle coste libiche fino ai confini nazionali. In proposito, alcuni migranti avrebbero denunciato le violenze subite nella self-house libiche per tutto il tempo della loro permanenza all'interno del compound, fino a poco prima della partenza verso le coste siciliane. Dalle progressioni investigative si è appreso che le vittime della tratta, dopo aver versato nel loro paese di origine i soldi necessari per il loro trasferimento in Libia venivano reclusi all'interno dei citati centri fino al pagamento di un'ulteriore quota per il successivo trasbordo sul territorio nazionale. In questo contesto investigativo in cui si è delineato un network criminale di natura internazionale sono stati identificati 5 indagati, 3 bengalesi e 2 sudanesi, giunti a Lampedusa lo scorso 26 dicembre insieme alle loro vittime ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla tratta e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nonché sequestro di persone e tortura. I provvedimenti cautelari disposti dal GIP di Agrigento accolgono un guardio indiziario a carico degli indagati, le cui responsabilità penali sarà definita nelle successive fasi processuali in ossegue ai principi costituzionali di presunzione di innocenza. Corse clandestine di cavalli, blizzannare una ventina i denunciati, tra cui minorenni, anche per scommesse illegali. C'è il servizio. Sono 20 le denunce, 10 le persone multate per violazione del codice della strada, 2 cavalli messi in salvo, 1 scooter e soldi incontanti sequestrati. E' questo il bilancio dell'operazione congiunta effettuata la scorsa fine settimana dagli agenti della squadra mobile Agrigentina, guidati dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, dai poliziotti del commissariato di Canicattì, Francesco Sanmartino ed i militari della guardia di finanza di Agrigento agli ordini del colonnello Rocco Lopane. Le forze dell'ordine hanno interrotto una corsa clandestina di cavalli incontrata a Gicobriglio nelle campagne tra Naro e Campobello di Licata. La gara, con tanto di scommesse e riprese social, è stata bloccata prima che si concludesse con un massiccio di spiego di agenti. Identificati due fantini e oltre 18 partecipanti. Tutti sono stati denunciati per aver organizzato la corsa clandestina. Altri 10 persone sono state sanzionate per violazione del codice della strada e sequestrata anche la somma di 3.000 euro incontrati. Ricordiamo che un'operazione analoga fu quella del novembre del 2020, quando sempre incontrata Gicobriglio a Naro appunto venne bloccata dagli uomini della squadra mobile un'altra corsa clandestina tra cavalli e quella dello scorso marzo nelle campagne di Canicattì, quando fermarono un combattimento clandestino tra Pitbull. Allora furono 25 le persone denunciate, tra cui due minorenni di Canicattì, Gela, Palermo e altre zone limitrofe. Sei cani che vennero sequestrati. Per tal riguardo interviene il primo cittadino di Naro, l'onorevole Maria Grazia Brandara, che esprime la sua personale gratitudine alla Polizia e alla Guardia di Finanza per l'operazione condotta in contrata Gicobriglio, che ha permesso di sventare una grossa clandestina di cavalli, fermando scommettitori, fantini e organizzatori di questa barbara iniziativa. Per Maria Grazia Brandara, primo cittadino di Naro, reputo un risultato importante in termini di controllo del territorio, anche perché l'intervento dei poliziotti e delle fiamme gialle ha permesso di evitare che si perpetrasse un ulteriore sfruttamento di questi poveri animali usati per traffico chiaramente loschi. Fingono di vendere assicurazioni auto e moto a prezzi vantaggiosi. Pioggia di truffe assicurative. La Polizia Postale segnala che sono in corsi nuovi tentativi di truffa a danno degli italiani. Vediamo. Eccomi qua, nella sala operativa del commissariato di PS Online del Servizio di Polizia Postale. Il caso di questa settimana riguarda Paola, che dopo aver pubblicato online l'annuncio di vendita della sua auto, è stata contattata da un tale Andrea, apparentemente interessato all'acquisto del veicolo. E per velocizzare la compravendita, come ulteriore forma di garanzia, Andrea ha chiesto a Paola di effettuare una misura della macchina su un sito che a suo dire gli sarebbe stato segnalato, consigliato dal suo meccanico di fiducia. Quindi Paola va su questo sito, si registra e paga 10 euro per avere la visura. Ricevuta la visura scopre che tutte le informazioni erano completamente errate, inventate e quindi in quel momento ha capito probabilmente di essere stata truffata. Ma la truffa non è stata solo nel regalare i soldi, i 10 euro a quel sito, al truffatore, ma attraverso questa operazione, oltre al costo del servizio, il delinquente è riuscito anche ad appropriarsi dei dati della carta di credito della vittima di Paola. Contatta quindi il commissariato di PS Online e le viene suggerito di bloccare la carta di credito che è stata utilizzata e andare presso un ufficio di polizia per sporgere denuncia. E la buona notizia è che a seguito dell'attività di indagini il gruppo di truffratori è stato individuato e il sito è stato chiuso. Brava polizia, molto brava. Utilizziamo solo i canali ufficiali per richiedere le visure automobilistiche. Andiamo sui motori di ricerca, cerchiamo in generale per le visure automobilistiche e utilizziamo solo quelli più noti. Da MCC Marco Camisani Calzolari e dalla Polizia Postale per oggi è tutto, tanto noi ci vediamo settimana prossima, sempre qui parlando di un nuovo caso. Beni e disponibilità finanziarie per oltre 7,2 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, a carico di sei persone e di una società di capitali. Nel mirino degli inquirenti i soldi a fondo perduto per la realizzazione di un complesso zootecnico con annesso Mattatoio. Il nostro direttore Arturo Cantella. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento in cui il GIP del Tribunale di Termini Merese, su richiesta della Procura Europea, sede di Palermo, ha disposto nei confronti di sei persone fisiche e di una società di capitali il sequestro preventivo anche nella forma per equivalente di somme e beni per un valore complessivo di oltre 7,2 milioni di euro. Quale profitto delle condotte delittuose ipotizzate? I reati contestati dalla Guardia di Finanza allo Stato sono a vario titolo truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ed emissione di fatturazione per operazioni inesistenti. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, hanno riguardato anche contributi a fondo perduto di origine europea e nazionale per un ammontare complessivo di circa 5 milioni e mezzo di euro concessi a una società della regione siciliana nell'ambito del PSR Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per realizzare un complesso zootecnico. Con annesso il mattatoio, gli elementi acquisiti allo Stato delle indagini hanno consentito di ipotizzare un complesso meccanismo fraudolento consistito nella sovrafatturazione delle spese oggetto dei contributi pubblici e nella falsa attestazione circa la data di conclusione dei relativi programmi di investimento. Con riguardo alla sovrafatturazione delle spese, gli indagati avrebbero fatto ricorso a plurimi schemi contrattuali e relative fatturazioni tra società formalmente distinte tra loro, ma di fatto riconducibili a un unico gruppo imprenditoriale finalizzato a far aumentare il costo dei beni rendicontati alla regione siciliana ai fini di ottenere pubbliche sovvenzioni. In pratica, le forniture oggetto di pubblica contribuzione avrebbero subito dei passaggi meramente cartolari tra più società riconducibili agli indagati in modo da tale da fare aumentare artificiosamente il costo finale dell'investimento documentato poi alla regione siciliana. L'ammontare complessivo delle fatture che si ipotizzano gonfiate è pari a circa 13 milioni di euro. Per tale motivo il sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Termini Merese ha riguardato l'ammontare complessivo del presunto profitto sia dei reati di truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di circa 5 milioni e mezzo di euro e sia di reati fiscali contestati tra cui 1,700 milioni di euro tra IRA e SIVA che si ipotizzano evase. L'odierna operazione di servizio testimonia quindi la stretta sinergia operativa tra la Procura europea, la Guardia di Finanza, tutela degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dei bilanci nazionali, nonché il contrasto alle gravi forme di evasione fiscale. Si evidenzia inoltre che il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in base di indagini preliminari pertanto in attesa di giudizio definitivo sussiste ovviamente la presunzione di innocenza. Nel fine settimana appena trascorso carabinieri delle compagnie di Messina Centro, Barcellona Pozzo di Gotto e Sant'Agata Militello hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio al fine di prevenire e contrastare i reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio o connessi al traffico di sostanze stupefacenti, oltre alle condotte di guida illecite, con particolare riferimento ai comportamenti che mettono a serio rischio i pedoni e gli automobilisti. L'intensificazione dei controlli ha riguardato diverse arterie stradali. In tutto sono state controllate circa 200 persone e oltre 120 veicoli. Con riferimento alla circolazione stradale, sono stati predisposti i posti di controllo anche nelle ore notturne, all'esito dei quali i carabinieri hanno deferito 10 persone, di cui 4 per guida in stato di ebrezza sotto l'effetto di alcol, 2 per guida senza patente poiché è revocata e un altro automobilista per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti o all'esame alcolemico. Sono state inoltre contestate violazioni riguardanti il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso del cellulare alla guida e la diffusione di rumori molesti durante la circolazione, oltre alla mancata copertura assicurativa dei veicoli. A Torre Nova e Sant'Agata Militello, un 38enne e una 26enne sono stati deferiti in stato di libertà poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione di sostanza stupefacente e fini di spaccio. All'esito della perquisizione personale ed eseguita sui loro veicoli, eseguita in due distinti controlli di polizia, l'uomo è stato trovato in possesso di 3 grammi, tra cocaina ed eroina, già suddivisa in dosi, insieme a una pasticca di anfetamina, mentre sull'auto della donna sono stati rinvenuti 47 grammi circa di hashish. Altre tre persone invece sono state denunciate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I servizi di controllo straordinario del territorio, che si aggiungono alle quotidiane attività di pattugliamento e controllo dei reparti dell'arma, saranno costantemente ripetuti al fine di assicurare un'efficace azione preventiva di contrasto agli atti illeciti nelle varie località della provincia. Giulio V, da tempo impegnato in politica, è stato nominato dal presidente della regione, Renato Schifani, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento, subentra Salvatore Nocera Bracco. Lo statuto della fondazione prevede che un componente del CDA sia designato con decreto dal presidente della regione. Con piacimento per la nomina di 5, esprime il sindaco di Agrigento Francesco Micichè, sono certo, dice, che saprà dare importanti contributi per la crescita della fondazione. A Nocera Bracco va il mio saluto e ringraziamento per il lavoro svolto, conclude il primo cittadino. E l'intero consiglio di amministrazione, unitamente ai direttori generale ed artistico, si congratula con Giulio V, lo accoglie augurandogli un proficuo lavoro. Al contempo ringrazia Salvatore Nocera Bracco per il prezioso contributo offerto in questi anni, con la certezza di poter comunque contare sul suo apporto per la crescita della fondazione. Papa Francesco vola nella Repubblica Domenicana del Congo per il suo quarantesimo viaggio apostolico. Ad accoglierlo ci sarà anche Padre Gaspare, missionario originario di Licata. Vediamo. Qui da Kishasa, Repubblica Democratica del Congo, Padre Gaspare, missionario componiano, direttore delle pontifici opere missionarie. Ecco, posso testimoniare che il Papa da tempo desidera venire visitare qui il Congo come testimone di riconciliazione e di pace. Già nel 2016, il 15 agosto, informato da me personalmente, ha denunciato il silenzio vergognoso dei massacri all'est della Repubblica Democratica del Congo che non erano mai giunte a sua conoscenza. È da allora che il Papa ha pensato a questa visita e aveva già inviato il Presidente della Crociata Internazionale, un padre gesuita. Ma poi eventi diversi hanno impedito la venuta del Papa. Doveva venire il luglio scorso, ma a causa della sua malattia questa visita è stata rinviata adesso dal 31 gennaio al 3 febbraio. Noi tutti, il popolo congolese, lo aspettiamo come testimone, pastore di riconciliazione nella giustizia e nella verità per una pace durevole. Ecco, allora, il Papa, visto che non potrà recarsi all'est della Repubblica Democratica del Congo, a Goma, incontrerà alcune famiglie vittime dei massacri qui a Chisciasa. Noi ci auguriamo che questa visita possa essere veramente fruttuosa per i beni di tutto il popolo. Grazie. A norma del concordato, l'insegnamento della religione cattolica è una disciplina assicurata nelle scuole di ogni ordine, grado e sottoposta alla scelta da parte della famiglia o dello studente. Si sceglie tra un sì o un no, unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico. Un appello ai ragazzi e genitori a dire sì all'insegnamento della religione cattolica viene lanciato da Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia, delegato per l'educazione cattolica e la scuola della conferenza episcopale siciliana. Vediamo. In questi giorni i ragazzi e i genitori sono impegnati nelle attività di orientamento scolastico e sono chiamati effettuari delle scelte. Un appello a dire sì e a scegliere l'insegnamento della religione cattolica scuola arriva da Monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Nicosia e delegato Cesi per l'educazione cattolica e la scuola. Nel video che vi proponiamo dell'ufficio stampa della Cesi, anche i dati relativi a quanti in Sicilia lo scorso anno hanno scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Le percentuali sono presentate da Barbara Condorelli, responsabile del servizio regionale IRCI. Si ha l'insegnamento della religione, si ha una ricchezza, una completezza della formazione. Fatelo veramente con gioia, fatelo proprio per arricchire sempre di più la vostra umanità, per rendere più belle le vostre scelte da oggi fino a continuare nella vostra esistenza con questo entusiasmo. Fatelo carissimi genitori, fatelo carissimi studenti, tutti quanti, con un grande senso di bellezza, di umanità, di semplicità. Fatelo proprio perché tutto questo vi farà crescere. Ancora una volta la Sicilia si mantiene come una regione fondamentale per il dato appunto totale di coloro che si avvalgono. Noi abbiamo registrato nell'anno scolastico 21-22 il 96% degli avvalentesi. Anche un altro importante dato è anche quello che anche gli stranieri, gli alunni stranieri che magari già provengono da altre esperienze culturali, religiose o filosofiche, di fatti scelgono per buona parte il 45% degli alunni stranieri che frequentano appunto le nostre scuole, scelgono di avvalersi. Questo che cosa denota? Denota ancora una volta che l'insegnamento della religione cattolica è una disciplina che ancora ha senso che ci sia all'interno della scuola. È una disciplina che io dico sempre fa la differenza. È una disciplina che in qualche modo accompagna non soltanto la formazione appunto dell'alunno ma soprattutto anche la possibilità di poter dare loro anche quelle risposte o comunque porsi davanti appunto a tutta una serie anche di domande e di riflessioni di cui ancora oggi gli alunni, la nuova generazione, i millennials, i ragazzi appunto dell'era digitale di fatti si pongono. Da domani, mercoledì 1 febbraio, torna in onda su TVA in prima serata Target, lo storico talk show condotto dal nostro Giuseppe Moscato. L'appuntamento è alle 21 ogni mercoledì. Di volta in volta i numerosi ospiti del salotto del collega Moscato approfondiranno tematiche attuali e socioculturali che caratterizzano il nostro territorio. A domani sera dunque sul canale 92 del digitale terrestre o in streaming sul sito di TVA www.televidiagrigento.tv Attraverso una apposita interrogazione che ho protocollato ieri ho chiesto al sindaco, che in queste cose anche l'assessore a bilancio, di optare per questa possibilità. Perché lo chiedo? Intanto perché dobbiamo fare una distinuzione importante rispetto alla classica rottamazione che prevede semplicemente la cancellazione degli interessi sui debiti ma resterebbe il debito alla sorte capitale. Lo stralcio vuol dire cancellare completamente il debito e quindi consentire a tantissime famiglie e tantissime anche attività che dopo due anni, quasi tre di pandemia feroce, si sono trovati in ginocchio. Il comune di Messina è nelle condizioni secondo lei di poter attuare questo provvedimento? Quello che ci raccontano da un po' di tempo a questa parte è che il comune vive in una condizione straordinaria, florida, ricca. E io sarei felice se fosse così. E questa potrebbe essere anche l'opportunità per dimostrarlo. Perché con questa delibera che dovrà essere prodotta entro il 31 di gennaio, se il comune fosse realmente solido, potrebbe consentire di respirare tantissime attività e tantissime famiglie, quindi sgravando tutti questi debiti. Ho dei dubbi. Però vado oltre. L'opzione di cui parliamo, perché si tratta di optare per questa possibilità che appunto prevede la legge di bilancio, è un'opzione. Ad oggi, se il sottoscritto non avesse sottolineato attraverso un'interrogazione questa situazione, tutto sarebbe rimasto nel dimenticato e sotto un velo di omertà. Quando invece ad agosto si poteva optare per l'aumento delle indennità, non mi sembra che abbiano ragionato più di un'ora, se farlo o meno. Era una possibilità quella ed è una possibilità questa oggi per i cittadini. Esattamente. Io so bene che probabilmente dovrebbero essere alterati gli equilibri di bilancio, perché parliamo di svariati milioni di euro e quindi sarebbe un folle e sarebbe folle basile se facesse questo tipo di azione politica. A questo punto però dobbiamo capire che le cose sono diverse da quelle che ci raccontano. Nel senso che è vero che il sottoscritto insieme all'amministrazione De Luca ha sostenuto tutta quella parte che riguardava il risanamento dei conti e quindi ridare una stabilità al Comune. Ma non è così stabile come ci raccontano. Ancora siamo in una fase sicuramente migliore, ma oggi è chiaro che il Comune difficilmente, secondo me, potrà consentire lo stralcio delle cartelle. Io sarei felice se lo facesse, ma credo che la risposta sia già scontata. Parliamo adesso della strage di Alcamo Marina, avvenuta nel 1976 in provincia di Trapani, all'interno di una stazione Carabinieri, quando nella notte due Carabinieri vennero assassinati a colpi di arma da fuoco. C'è il servizio. Un tuffo nel passato, fra i più tenebrosi del nostro territorio. L'arma dei Carabinieri è stata condannata ad un risarcimento milionario, 2 milioni 137 mila euro, nei confronti dei familiari di Giovanni Mandala, l'uomo di Partimico morto in carcere nel 1998, accusato e condannato ingiustamente all'ergastolo per la strage di Alcamo Marina, della quale, lo ricordiamo, qualche giorno fa si è ricordato il 47esimo anniversario. A stabilire il risarcimento sono stati i giudici della terza sezione civile del Tribunale di Palermo. I familiari di Mandala, assistiti dagli avvocati Paolo Cellini e Saro Lauria, si sono costituiti parte civile ed hanno citato l'arma così nelle motivazioni della sentenza. I giudici spiegano la condanna. Non c'è alcun dubbio sul fatto che siano stati gli appartenenti dell'arma dei Carabinieri ad architettare la condanna all'ergastolo del Mandala. Per i giudici la difesa dell'avvocatura dello Stato non regge, secondo la quale vi sarebbe stato un concorso di colpa del Mandala nell'aver determinato l'errore giudiziario, essendo questi caduto in continue contraddizioni. In conclusione, non può revocarsi in dubbio la responsabilità del Ministero della Difesa e dei convenuti Giuseppe Sibiglia, Fiorino, Pignatella, Giovanni Provenzano, in considerazione delle condotte da questi ultimi perpetrate, integranti gli estremi del delitto di frode processuale che hanno portato alla condanna del Mandala. Sono tre Carabinieri che facevano parte del gruppo guidati dal capitano Giuseppe Russo e che torturarono prima Giuseppe Vesco che poi chiamò in causa Giuseppe Gulotta, Gaetano Sant'Angelo, Vincenzo Ferrantelli e Giovanni Mandala. La svolta che permise di riaprire effettivamente il caso avvenne nel 2008 con le confessioni rese dall'ex brigagliere Renato Olino, presente, alle agghiaccianti torture. Egli raccontò ai giudici come si svolsero realmente i fatti e come si arrivò ad incastrare quei giovani innocenti che furono dopo la revisione dei processi penali tutti assolti. In nome del popolo italiano, la Corte di Appello di Reggio Calabria, visti gli articoli 637, 639, 530, codice procedura penale, revoca la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assisi d'Appello di Catania in grada 29 11 89 e assolve l'imputato Gulotta Giuseppe dai reati allo stesso ascritti per non aver commesso il fatto. A breve si attende la sentenza del processo civile a Firenze con la richiesta di Giuseppe Gulotta di 66 milioni di euro. Anche Ferrantelli e Sant'Angelo hanno pronto il ricorso con le richieste di 20 milioni, ciascuno sempre all'arma dei carabinieri. Il presidente dell'ATM, azienda Trasporti Messina, annuncia che il servizio sarà sempre più efficiente anche grazie all'arrivo di nuovi mezzi. Vediamo. Stiamo continuando in maniera incessante su quello che è il progetto generale, ormai lo ripeto come un mantra, si ragiona sulla mobilità tutto tondo e questo fa parte di una strategia complessiva iniziata nel 2018 e che prosegue. In merito alle polemiche, io sono abituato al lavoro e non alle chiacchiere. Le chiacchiere sono legittime, fanno parte del ruolo che i sindacati intendono a scriversi, come giusto che sia, però ritengo che la città e i cittadini meriti un attimo di tranquillità e il progresso e comunque le innovazioni avvengono per step e per tempi che sono calendarizzati. Relativamente agli interventi, parto dal presupposto, e questo lo dico non da amministratore ma da tecnico, che se un tecnico mi certifica che è tutto in ordine, non mi permetto minimamente di andare a sindacare, soprattutto se non ho le qualifiche per poterlo fare. Questa non vuole essere assolutamente una polemica, ma vuole essere un invito a cercare a voler più bene alla città anche attraverso quelle che sono poi le critiche costruttive, non quelle dissacratorie che servono a poco e comunque non aiutano a dare la giusta informazione. Io mi permetto di dire ancora una volta, grazie all'azienda TMSPA che sta facendo uno sforzo enorme, voglio ricordare da dove siamo partiti e dove siamo, per cui andrei a registrare la notizia positiva e non quella negativa. Cerchiamo di non piangerci addosso, ma cerchiamo di volere bene alla città facendola emergere nella sua qualità. Permettetemi infine un ultimo passaggio, la novità non è la consegna dell'ennesima vettura del tram che come sapete continuerà nei prossimi mesi, ma la novità è la piena sinergia con la scuola. La scuola è il centro di tutto, i ragazzi sono il centro di tutto, sono il nostro futuro e i ragazzi cominciano a partecipare a quella che è la costruzione della città, anche se apparentemente può sembrare una banale serigrafia, significa amare la città attraverso la propria arte, quindi la sinergia con l'Istituto Basile, che ringraziamo ovviamente, ci porta a cominciare a vedere la città con occhi diversi. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Basket, serie A2 maschile, l'Ureania rimonta e batte a Grigento, dopo due overtime, 126 a 121. Arturo Cantella. Una di quelle partite che difficilmente si dimenticano, sia da una parte che dall'altra, è che ogni giocatore vorrebbe giocare e vincere, una partita insomma che alla fine valeva più di due punti. E' stata questa l'atmosfera che ha vissuto il pubblico di Milano, dopo la vittoria dell'Urania contro la fortituta Grigento per 127-121, dopo il secondo tempo supplementare, un risultato degno di una gran partita di NBA, un risultato che raramente si vede nella pallacanestro italiana e le due squadre non si sono risparmiate dall'inizio alla fine. La fortituta Grigento parte subito forte, con infiltrazioni in tutta la difesa avversaria. Il coach Villa cerca di dare la carica ai suoi giocatori, ma la squadra del coach Cagnardi non sbaglia un colpo e dimostra di avere un giropalle e una gestione del campo degna di una prima posizione di campionato. Il divario aumenta fino a 14 punti, prima di una brutta palla persa e tre contropiedi che riportano a Milano sul meno 7. Il primo parziale si chiuderà sul più 11 per la fortituta Grigento e questo culla un po' i siciliani. Milano quindi rialza la testa grazie a una prestazione superlativa di Amato, al quale risponde Lorenzo Ambrosini, in formato gigante, a fine partita. I punti segnati da entrambi saranno rispettivamente 41 e 37. Netta parità a metà partita, dimostrazione del fatto che entrambi sono a pari punti in classifica, ma nel terzo parziale la partita prende una svolta. Milano supera Grigento che con fatica cerca di non perdere il treno per la vittoria, ma un fallo antisportivo di Montano riscalda il match. Le due squadre iniziano a innervosirsi non poco, quindi viene espulso ed Agrigento riesce a riportarsi in avanti, ma nel momento decisivo sbaglia più volte. Il colpo del K.O. e Milano non perdona. Nonostante le esplosioni di Potti e Debeling, la squadra di Cagnardi non riesce a dominare il match. E con grande cuore Milano la fa a sua la prima del pareggio dei tre punti di Alessandro Grande, prendendosi la squadra sulle spalle ancora una volta e tirando da posizioni improbabili. Chiudà il match con 22 punti, finisce 93-93, si fa quindi a supplementari. La Fortitudo perde per eccesso di falli, Frenz e Chiaristella, Costa e Negri. Il piccolo vantaggio viene naturalizzato, il match diventa sempre più psicologico che fisico. La Fortitudo pare a caro prezzo ai troppi errori, nei tiri liberi con un 65% di realizzazioni su 52 tiri totali. Un dato che nel finale non permette l'angangio e le triple di Amato stendono definitivamente Agrigento, che nonostante l'ennesima tripa di grande non riesce più a recuperare il match a Milano e vince uno storico match per 127-121. Adesso si ritorna al Palamoncada per il match contro la capolista Cantù e Agrigento dopo le due sconfitte esterne inizia a perdere terreno dalle prime in classifiche. Intanto sentiamo il commento positivo verso la Fortitudo del coach Cagnardi che arriva proprio dal coach del Rurani a Davide Villa. Sicuramente c'è stata molta partecipazione e ci ha aiutato a restare in partita. Sicuramente è molto emozionante una partita come avevamo detto che valeva tanto per lo scontro diretto che era. Devo dire che, l'ho detto anche a coach Cagnardi, sarei molto contento, ma credo che sia una squadra che sta facendo un campionato grandissimo. La reputo la rivelazione del campionato, quindi spero veramente che possa confermare quanto di buono sta facendo. Ovviamente spero che arrivino dietro di noi, però che arrivino subito dietro di noi, va benissimo. Quindi i complimenti, ma non per quello che si è visto oggi, per quello che stanno facendo, perché anche loro comunque hanno una rotazione a 7 senior e siamo tra le poche squadre a ruotare a 7 senior. Quindi tanto valore di questa fascia ovviamente intendo. Tanto valore a quello fatto. Poi una partita comunque con tanti errori, potevamo fare meglio, però hai ragione tu. Oggi ci portiamo dietro più le emozioni che la tecnica è altro. Ogni tanto è giusto anche così. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del Telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.